In A1 in direzione Roma ci sono 3 km di coda per lavori tra Valdichiana e Chiusi, in direzione Bologna un km di coda per lavori tra Fabbro e Chiusi, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla FIPILI per lavori in direzione mare un km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, in direzione Firenze rallentamenti tra Empoli e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!